A me da buono, a me da buono, anche qui Natale è uscito un giudatore in copertina per esempio Attenzione! E' Oblak! E' Oblak! Vai! Ad agosto ma ci siamo Non si bolla niente, ricordiamocelo Ricordiamocelo, non si bolla niente Bola Oblak! Vamos! Mamma mia! Mamma mia! Bello! Bello! Beh, questo è win Questa è una bella giga win Signori, no, non ci voglio credere TS, c'è veramente Non c'è il footis E il pacchetto 100 giocatori Qua mi esce un foot Dai, un foot bird, un foot fantasy No, neanche lui Questo è una storia del futuro È una storia del futuro Veramente questo dai, non ci voglio credere What? Non ci credo Veramente non c'è nulla Non troviamo nulla, davvero Non ci voglio credere Non abbiamo trovato nulla Il pacchetto, tanto atteso 100 giocatori 82 più Vediamo quello che esce Che cosa riusciamo a trovare, signori? Vediamo qual è il drop rate Ok, foot bird Però volevo almeno un footis in faccia Zincenco, va bene Vediamo sotto cosa ci dà Vediamo sotto cosa ci dà Allora Ok 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 Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Eh, va bene Manco un footis Magari non aveva tante aspettative No, dai Morino da questo pacchetto, raga Miranda Miranda Mirare Ma questa è un'altra pacchetta interessante comunque Sì, infatti sì Caspita Voglia Marziale come primo Dai Non ci voglio credere Vabbè sotto c'è qualcosa di interessante comunque Per forza No, niente footis Niente footis Ma Non ci voglio credere Ah, vabbè Dai È coloso È coloso Buono